lo stadio vabbè perchè per te è una cosa strana, per me è una cosa normale no, non ho capito, non è una cosa strana, è giusto per andare insieme alla partita ah vabbè per fare un cazzo sinceramente e a me è venuto sempre allo stadio quindi è che cambia qualcosa sto d'accordo poi c'è stanno anche i juventini quindi non è che mi dici oh no, ma lo stadio per finire ma c'è Piroci e Inuia sono romanisti vabbè Piroci e Inuia che si è in c***a che codotti e...